Questo pomeriggio una conferenza stampa, perché? Perché la destra qui a Crotone si sta riorganizzando insieme ad Adele Bottaro e i Fratelli d'Italia e vogliamo lanciare un monito a tutta la popolazione ma anche e soprattutto ai partiti del centro-destra di iniziare a pensare, di avere delle idee, dei programmi e dei soggetti per la prossima elezione comunale che ci saranno qui a Crotone. L'attenzione sul comune di Crotone piuttosto che sulla regione? Anche sulla regione, ma io ritengo che prima di andare verso l'alto bisogna seminare più in basso. Bisogna vedere che Crotone è in condizioni veramente pietose, non c'è bisogno che io dica quali siano i problemi di Crotone perché Crotone in questo momento è un problema. Parliamo delle strade, parliamo dell'illuminazione, parliamo della bonifica, parliamo del porto e così via. Credo insieme agli altri amici che questo sia il momento per lanciare delle proposte serie. Noi vogliamo già scegliere a breve tempo un candidato a sindaco che sia autorevole soprattutto, che sia caparbio e che sia un uomo di destra. E nel contempo avere attorno una squadra che a mio parere dovrebbe essere pubblicizzata prima del lagone elettorale, cioè degli assessori che non siano dei consiglieri comunali, che siano persone prese dai partiti, però con delle capacità specifiche, con delle professionalità. Tempo di elezioni, il centrodestra anche a Crotone si sta riorganizzando. Sì, ci stiamo riorganizzando, siamo partiti come Fratelli d'Italia insieme al Movimento Nazionale per la Sovranità, rappresentato da Pino Burorti. Abbiamo già cominciato a parlare di un nuovo progetto politico per la città di Crotone e siamo aperti a tutte le forze di centrodestra, nonché a liste civiche, associazioni e movimenti che si rivedranno in questo nuovo progetto, con la speranza che possiamo portare un cambiamento radicale nella città crotonese. Tenendo conto che si voterà dopo le regionali, c'è questo trend positivo per il centrodestra? E' questo che vi spinge già a mettervi al lavoro? Questo sì, ma tenendo conto anche delle ultime situazioni che si sono verificate su Crotone, penso che la gente abbia veramente bisogno di un cambiamento. Anche perché l'attuale amministrazione era stata votata in maniera plebiscitaria e in quel contesto Fratelli d'Italia, nella fase del ballottaggio, era stato l'unico partito che si era praticamente astenuto dallo scegliere l'uno o l'altro candidato a sindaco perché politicamente non pensavamo che nessuno dei due potesse rappresentare il nostro elettorato. Non avevamo assolutamente torto. Dispiace il fatto che dopo tre anni ci si ritrova con una città in ginocchio. Al di là della situazione che sta vivendo Ugo Pugliese con tutti quanti gli altri, noi praticamente non mettiamo in discussione la loro situazione che verrà definita, perché crediamo nella magistratura, quindi saranno loro a decidere il tutto e a risolverla. Però riteniamo che politicamente parlando sia stato un fallimento.